Gioca sempre molto bene il Sestri Levante sia all'andata sia oggi, però oggi cosa non ha funzionato? Perché quando si perde 3-0 qualcosa c'è. Va sicuramente rivista prima di dare un giudizio come si deve. Sicuramente dietro abbiamo sbagliato qualcosa nelle occasioni dei gol e abbiamo incontrato una squadra che è davanti a tantissima qualità e l'ha fatta vedere. E noi davanti le occasioni che abbiamo avuto probabilmente non le abbiamo sfruttate dove potevano magari tenerci in partita. Forse soprattutto nel secondo tempo sul 2-0 quando Candiano da forte è stato mandato a tu per tu con Plizzari lì bravo Plizzari ma sul primo palo poteva fare di più. Sì, sì, sicuramente quella forse è l'occasione più grossa che abbiamo creato. Qualche altra occasione magari c'è stata, qualcosa di potenziale secondo me anche nel primo tempo. Noi abbiamo provato a cambiare un po' le cose costruendo a tre e anche perché comunque Furno avrebbe giocato sicuramente a Coppiata Merola comunque anche se avessimo giocato a quattro quindi abbiamo provato a cambiare qualcosina mettendo gala a fare il quinto per sfruttare magari il fatto che il Pescara costruisce tanto quei terzini e provare a prendere quello spazio tra il centrale e il terzino. A volte l'abbiamo fatto, qualche volta ci è mancata la qualità per sfruttarlo. Ci sono stati tanti due contro due dove abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, scelta e purtroppo se sbagli quelle cose lì poi non puoi far male all'avversario. Ecco, io provo a dire dove magari potete avere qualche rimpianto perché nel primo tempo quando il Pescara era nella vostra tre quarti e un paio di occasioni ha sbagliato il passaggio siete ripartiti anche con l'uomo in più rispetto al Pescara. Lì forse è mancato l'ultimo passaggio. Sì, è un paio di giornate che avevamo rimesso a posto un po' la fase difensiva ma avevamo ricominciato ad avere i soliti problemi dell'andata a segnare, a costruire, a fare l'ultimo passaggio alla zona di rifinitura. Quindi si stanno ripalesando di nuovo gli stessi problemi e quindi dobbiamo metterci mano in qualche modo. Studio per Barilari. Sì, Fabio Ferraresi. Io al mister chiaramente faccio i complimenti per il fatto che comunque cerca sempre di essere propositivo e di giocare con il suo credo però oggi forse col senno di poi poteva fare una partita un po' più guardinga perché ha dato tanto spazio al Pescara. Nell'idea doveva essere una partita un po' guardinga perché io credo che il piano gara vada visto nella prima mezz'ora e da lì si vede cosa uno aveva più o meno preparato. Noi in teoria eravamo 3-5-2 quindi è vero che utilizzavamo un terzino nei tre però avevamo Podda a fare il quinto a destra e Gala a fare il quinto a sinistra quindi non eravamo poi così sbilanciati tanto è vero che abbiamo preso poi diciamo un infortunio sul primo gol. Quindi fino a quello direi che anzi eravamo forse troppo dietro, non troppo avanti tanto è vero che abbiamo subito una valanga di calci d'angolo probabilmente eravamo un po' troppo bassi perché ci abbassavamo a 5 quindi diciamo che più prudenti che difendere a 5 forse non ci può essere in questo caso. Nel secondo tempo siamo tornati al nostro però bisogna anche dire che probabilmente magari il Pescara ha gestito un attimo e quindi il secondo tempo magari va visto in un'ottica diversa. Chiudo io con una battuta per Barilari che deve salutarci. Lei in conferenza ha detto per preparare una partita contro una squadra di Zemmane ci vogliono mesi, mesi e mesi ma cosa ha fatto questa settimana per provare a limitare il Pescara? Come le dicevo prima abbiamo provato a lavorare sui punti dove potevamo fare male loro cioè sul fatto che appunto costruendo con entrambi i terzini spesso sbilanciandosi un po' e lasciando il 2 contro 2 abbiamo messo a posta due attaccanti per giocarci quel 2 contro 2 e soprattutto per andarli a prendere tra centrale e terzino. Il problema è che poi ci vuole anche la qualità per riuscire a farlo non solamente l'intenzione e sulla qualità abbiamo un po' peccato non in costruzione ma in rifinitura.